Ciao ragazzi ben ritrovati sul canale sono Ben, oggi vi suggerisco alcuni giochi da inserire assolutamente nella vostra lista dei desideri visto che purtroppo non sono riuscito a fare un video sui giochi da acquistare per il Black Friday Like, iscrizione e campanella per rimanere sempre aggiornati, venite a trovarmi sulla pagina Facebook Advanced VR Fair e acquistate i vostri giochi preferiti su Instant Gaming seguendo il link in descrizione per avere ulteriori sconti e supportare il canale, grazie Dunque parlando di questi giochi vi dirò anche per quale piattaforma sono disponibili, quindi SteamVR, Rift o Quest Vi ricordo inoltre che i giochi disponibili per SteamVR e Rift sono solo PC VR, quindi giocabili solo se avete un PC abbastanza potente per eseguire questi giochi Potete giocarli anche con il Quest e Quest 2 ma solo se avete un PC abbastanza potente e se avete un cavetto USB 3.0 che sia un qualsiasi cavetto o Oculus Link Potete utilizzare anche Virtual Desk per giocare a qualsiasi gioco della libreria Rift o SteamVR utilizzando il Quest o il Quest 2 Per capire come fare seguite la guida che sta comparendo adesso in questa scheda Inoltre vi ricordo che alcuni giochi PC VR potrebbero essere disponibili anche su Quest Però alcuni dovete comprarli per le singole piattaforme, quindi per Rift e per Quest Mentre per altri, cosiddetti giochi cross-buy, basterà comprare una sola versione sullo store Oculus e avrete sia la versione Rift che la versione Quest Non esistono giochi cross-buy per Steam Vi faccio un esempio, se acquistate Saints and Sinners su Steam, pur essendo cross-buy sulla piattaforma Oculus, avendolo acquistato su Steam non lo avrete mai anche sul Quest 2 Per sapere quali sono i giochi cross-buy e quindi poter fare i vostri acquisti con maggior consapevolezza Seguite il video che sta comparendo su questa scheda Ok, partiamo dalla piattaforma Rift con Asgard Wrath Gioco hack and slash epico che vi fa vivere l'esperienza di un guerriero vichingo Con tanti nemici dalle diverse abilità di combattimento Ragazzi è un gioco potente, non so come descriverlo, gioco potente Dalla grafica dettagliata, ricca di particolari, alta definizione, tanta tanta azione veramente Con un combat system che definirei perfetto ragazzi Se facessero un Dark Souls in VR vorrei che avesse il combat system di Asgard Wrath Asgard Wrath è disponibile in esclusiva Rift Bene, passiamo a un altro gioco, Defector Allora, gioco d'azione al quale ho voluto dare una possibilità nonostante avessi letto qualche recensione un po' negativa Vale, vale l'acquisto Gioco molto divertente, pieno d'azione In pratica siete un agente segreto ma non è uno stealth È breve, la storia è breve ma è molto molto adrenalinico Ci sono delle scene da film hollywoodiani del tipo lanciarvi con una macchina da un aereo Per finire dentro un aereo Quindi scene d'azione veramente alla Mission Impossible Anche Defector è un'esclusiva Rift Passiamo avanti Allora, Espyre Ragazzi, non sapevo se inserirlo in lista perché graficamente non è un gioco eccellente Ok, ci sono molti bug, molti glitch Però è molto divertente È uno stealth puro con missioni principali e secondarie Ci sono delle sfide anche piuttosto lunghetto come gioco Disponibile su piattaforma Rift, SteamVR e Quest Inoltre è Crossbuy Quindi comprandolo su Oculus avete sia la versione Rift che la versione Quest A proposito della versione Quest, fra l'altro, di recente ha ricevuto l'anniversary update Che, ragazzi, è un aggiornamento pazzesco perché ne ha migliorato di molto la qualità grafica Rendendolo praticamente identico alla versione PC Oltre che a correggere maggiori errori, quindi è stato perfezionato Consigliato, ma non è un must Bene, ragazzi, Lone Echo Se voi avete un Rift o un Rift S e non avete ancora Lone Echo Dovete buttare i vostri visori nell'immondizia se ancora non avete almeno nella lista dei desideri Reputo Lone Echo il gioco più bello disponibile in VR finora Non dopo Alyx Ragazzi, io lo ritengo al pari di Alyx E per alcuni aspetti è anche superiore ad Alyx Come per esempio la storia Fondamentalmente la storia di Alyx Non è che sia tutta questa epicità Lone Echo lo è Vestite i panni di un assistente robotico su una stazione spaziale orbitante Improvvisamente vi trovate la merda fino al collo E non vi dico altro, ragazzi È un'esclusiva Rift È previsto il seguito Quindi Lone Echo 2 Ma prego vivamente che non sia esclusiva Quest 2 Lone Echo 2 deve rimanere un gioco PC VR Ok, Phantom Cover Tops Si tratta di un action stealth puro Con sette missioni Tutte in kayak Può sembrare un po' monotono però, ragazzi Le meccaniche sono fatte veramente bene Obiettivi primari e secondari Sfide, minigiochi Vi muovete, come vi dicevo, solo in kayak Con delle meccaniche pazzesche, ragazzi Che riproducono addirittura perfino l'attrito della lama sull'acqua È un armamento vario Avete pistole, fucili d'assalto di precisione, granate e altri dispositivi La grafica è molto curata Realistica Effetti di luce pazzeschi Almeno nella versione Rift Poiché è disponibile anche su Quest Ed è cross-buy Bello, bello veramente Da avere assolutamente se vi piace il genere stealth Poi, Red Matter È un bel gioco È un puzzle horror psicologico Sci-fi Story-driven Posso dire Cioè che significa che è la storia Che guida tutto il gioco È la colonna portante di questo gioco È la storia Ambientato Mi verrebbe da dire Marte Ma in realtà è un pianeta non definito Dove la componente horror Non funziona tramite jumpscare Che, vabbè, con gli jumpscare sono tutti bravi A far paura Ragazzi, qui si basa di tensione Effetto psicologico sul giocatore Quindi molto intenso come esperienza È disponibile su Steam Rift e Quest Non è cross-buy Ragazzi, ragione per la quale Vi sconsiglio l'acquisto su Oculus Quest Dove perde moltissimo In fatto di grafica E interazioni con il moglio La migliore esperienza su Red Matter È PC VR Poi Stormland Ragazzi, gioco pazzesco Vi dà la possibilità di giocare In cooperativa con un vostro amico Fra l'altro Vestite i panni di un robot Dovrete affrontare degli invasori alieni Che vogliono impadronirsi del pianeta Ricco di posti esotici Giungle regogliose Rovine Deserti Ragazzi, scenari veramente pazzeschi Graficamente fatto veramente Veramente bene Scenari Sia la grafica in generale Che gli scenari sono curatissimi Azione ai massimi livelli Libertà d'azione totale Potete addirittura volare in questo gioco Che è un'esperienza pazzesca Stormland, vi ricordo È un'esclusiva Rift Vi faccio una rapida panoramica su The Climb Un gioco dove vi trovate in scenari stupendi A scalare montagne e pareti Con difficoltà sempre crescente Ben curato graficamente Almeno nella versione PC Un po' meno in quella per Quest Disponibile per Rift e Quest E Cross Buy Ed è un gioco ideale Se volete tenervi in forma Giocando Stesso discorso Dicasi per Thrill of the Fight Ragazzi È il gioco di box Più tecnico Che ci possa essere in VR Graficamente non è il più eccelso Ma se siete dei praticanti di box Troverete questo gioco Il migliore tra tutti È disponibile sia su SteamVR Rift e Quest Se lo comprate però Su Oculus E Cross Buy Quindi lo avete Sia per Rift che per Quest Anche se su Steam Costa un pochino di meno Ok Altro must direi The Walking Dead Saints and Sinners Con certezza assoluta È il miglior gioco Dedicato finora All'universo di The Walking Dead A parere mio Migliore anche Degli altri giochi Finora che sono usciti Su PC in flat La storia principale È più o meno breve Si esaurisce in 6-7 ore Se ve la fate con calma Ma l'endgame è infinito È un gioco d'azione Con una leggera componente survival Poiché dovete tenere d'occhio Non solo la salute Ma anche la resistenza La fame Altri parametri vitali Inoltre potete raccogliere Materiali Scarti e rottami Per costruire nuove armi Non avete amici o nemici Ben definiti Ci sono soltanto Due fazioni opposte Che si scontrano fra di loro Per le quali potete Portare a termine Obiettivi secondari E quindi allungare La longevità del gioco C'è la possibilità Di settare la difficoltà Adattiva Cioè più siete bravi E più a lungo Sopravvivete Più il gioco diventa difficile Più le orde di zombie Diventano numerose E aggressive È disponibile Su SteamVR Rift E quest Però se lo comprate Su Oculus È cross buy E inoltre di recente Sono stati aggiunti Anche i sottotitoli In italiano Half-Life Alyx Ragazzi sapete perfettamente Di cosa sto parlando Probabilmente il 99% Degli ultimi utenti VR Che hanno acquistato Un visore L'hanno fatto solo Per giocare ad Alyx E avete fatto benissimo Lo stesso dicasi Per chi sta acquistando Il quest 2 Ma ragazzi Non potete Non potete giocarlo Col quest 2 Se non avete un pc Con due palle grosse Così sotto Non potete giocare Ad Alyx Inoltre Anche se avete un pc Ci sono molti utenti Che si stupiscono Eh ma io col Rift S Ci giocavo tranquillamente Col quest 2 Non ci posso giocare Ragazzi è normale Soprattutto dopo L'aggiornamento V23 Che ha portato il quest Alla sua risoluzione massima E ai 90 Hz Ragazzi È come se andate a impostare Un gioco a 1080 Che sul vostro computer Già fa fatica Ad andare in modo Fluido E improvvisamente Alzate tutti i dettagli Al massimo E la risoluzione In 4k Ma è chiaro Che vi darà Stuttering Lag E probabilmente Andrà anche in crash Perché vi esplode La scheda grafica Quindi Half-Life Alyx Sicuramente Un must Cioè È il primo gioco Che dovete avere In libreria O quantomeno In lista dei desideri Non il primo Col quale giocare Magari cominciate Con qualcosa di più tranquillo Però dovete Averlo A quale condizione Se avete Un computer Abbastanza potente Per giocarlo Ok Concludo Con un'esclusiva Quest 2 Barra quest Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Allora Graficamente Mi è piaciuto Molto il colpo D'occhio Di questo gioco Veramente Pazzesco Appena entrate Nel gioco Dite Ma sono collegato A un pc O è un gioco Standalone Tanto che Le primissime volte Che ci ho giocato Lo paragonavo Ad Half-Life Alyx Graficamente Parlando Ragazzi Ma ripeto Non veramente Nel dettaglio Ma nel colpo D'occhio Purtroppo A livello grafico Ovviamente Ci sono Delle mancanze Ma non Per problemi Di sviluppo Ma per Limitazioni Tecniche Del Quest 2 Fra l'altro Andate a vedere La recensione Di Star Wars Tales from the Galaxy's Edge L'interazione Con il mondo È ridotta All'osso La storia È breve Parte con il botto Ma poi si appiattisce Però nonostante ciò È un bel esperimento Una bella dimostrazione Di forza Che ci dimostra Che gli sviluppatori Su Quest 2 Possono fare Molto di più Di quanto abbiamo visto Finora Per gli utenti Quest e Quest 2 Un must Assolutamente Da avere al più presto Quindi In lista di desideri Direi che per adesso Posso fermarmi qui Non mi piacciono i video lunghi Suggeritemi invece I vostri giochi preferiti Ragazzi Magari potrei anche Ritenerli degni Gli do uno sguardo Magari li inserisco Anche in un altro video Sui giochi consigliati Ok Grazie per la visione Like, iscrizione e campanella Da bene è tutto Ci vediamo alla prossima E ci vediamo in VR Ciao ragazzi Grazie a tutti